Un bambino di due anni morto, ucciso dai genitori, forse con la complicità di entrambi, forse con l'azione omissiva di uno dei due, cioè uno uccideva l'altro rimasto a guardare, ma cosa accade nella mente di un essere umano per portarlo ad uccidere un bambino di due anni, un figlio di due anni? Cosa accade nella mente di quella persona in quel momento e quali sono le conseguenze? Ci sono dei segnali che potremmo percepire e potremmo intervenire per evitare che la tragedia si compia? Tutti in questi giorni hanno detto si poteva fare di più, probabilmente non è assolutamente vero, forse è una tragedia che era inevitabile. Ne parliamo in questo numero di a porte aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, è psichiatra, criminologa, responsabile delle REMS di Ceccano e di Ponte Corvo, benvenuta la dottoressa Carla Romano, buonasera. Buonasera direttore. Sindaco di Piedimonte San Germano per mesi ha seguito la vicenda ed è stato tra i primi a rimanere sorpreso dall'epilogo, benvenuto al sindaco Gioacchino Ferdinandi, buonasera. Buonasera a lei direttore, salve. È assistente sociale, opera nell'area del Cassinate, vede ogni giorno tanti casi nei quali è necessario intervenire e seppur a malincuore interviene, benvenuto alla dottoressa Daniela Ruffino, buonasera. Buonasera direttore. Cominciamo dalle ultime ore, nelle ore scorse nella giornata di mercoledì ci sono stati i funerali di questo bambino che ha pagato con la propria vita un momento di follia dei genitori. Allora vediamo per un attimo le immagini che sono state girate in giornata quando c'è stato il funerale, nel corso del quale il sindaco ha detto mai più indifferenti e distratti. L'ho detto al termine delle esequie del piccolo Gabriel, sindaco mai più indifferenti e distratti. Come se in questo caso ci fosse stata indifferenza e distrazione. Va bene che tutto è perfettibile, tutto si può migliorare. In questo caso c'è stata indifferenza, c'è stata distrazione? Ma il mio allarme che ho lanciato proprio lì dall'altare della chiesa Santa Maria Assunta di Piedimonte San Germano era rivolto alla comunità. Cioè che cosa significa il senso di istituzione? Se istituzione è solo il sindaco con una fascia a tracolla, se istituzione è solo un poliziotto, un carabiniere, un vigile del fuoco che tanto era amato dal piccolo Gabriel, ma in realtà istituzione è la comunità. Cioè l'insieme di tutti quei cittadini che formano appunto un paese, una città. Potevano, se così era stato, segnalare un pericolo che il piccolo Gabriel in quei giorni stava vivendo. Qualora se è vera che la madre aveva dei problemi psichici che potevano compromettere ovviamente la vita di quel bambino, poteva qualcuno segnalare all'assistente sociale, al comune, insomma ad un'autorità che potesse intervenire ed evitare questa tragedia. Lei a questo proposito già nei primi giorni ha detto c'è un'assistente sociale molto attiva nel mio comune, anzi è una persona che non si fa scrupolo di fronte alla necessità di prendere una decisione, la prende per il bene del bambino. Sì, l'assistente sociale del comune di Pietimonte San Germano è una professionista, tra l'altro messa a disposizione dal Consorzio per i Servizi Sociali perché voglio ricordare che la nostra città fa parte di quei 26 comuni che costituiscono il Consorzio dei Comuni del Cassinate dove ci sono diversi assistenti sociali tra cui la stessa dottoressa che ricopre questo ruolo del comune di Pietimonte che io definisco una professionista dalla penna facile che segnala qualsiasi problematica al Tribunale dei minorenni, a chi sono appunto gli enti preposti come appunto anche al REMS, più volte ho sentito insomma l'assistente sociale che colloquiava appunto con quelli che erano e con quelli che sono appunto i professionisti che dall'altra parte seguono questi casi, quindi credo che, e ho avuto conferma da lei la mattina alle 8 dopo purtroppo questo tragico evento, la prima persona che ho voluto incontrare in comune è stata l'assistente sociale che mi ha confermato che purtroppo nessuna segnalazione così grave da poter compromettere la salute di quel bambino, del nostro piccolo cabbio al comune non era mai arrivata. Allora siccome questa trasmissione passa per essere quella che smonta molti luoghi comuni, sarebbe fin troppo facile cercare lo scandalo dove non c'è, però qui vanno individuate alcuni elementi, intanto questo era un nucleo familiare che era arrivato a Pietimonte da circa un anno, quindi non si può parlare di una storia di abbandono, di disagio, anzi andando a vedere non siamo nemmeno di fronte a una storia di estrema povertà perché in quel nucleo familiare comunque c'era quel minimo che consente di vivere con decoro. Siamo all'interno di un problema che è nelle dinamiche tra due persone che vivevano come coniugi. Questo è un elemento che io posso solo rappresentare per sentito dire soprattutto negli ultimi tempi. Quello che posso confermare è che la ragazza, la mamma del piccolo Gabriel è arrivata nella mia città circa un anno fa, quindi ha raggiunto la nonna circa un anno fa. Ovviamente non conviveva con il suo compagno, se così possiamo definirlo, in quanto lui era residente in un altro comune con un'altra persona. La questione e la problematica è se all'interno della vita di coppia o comunque di quei momenti che loro si incontravano ci fossero dei problemi, dei disagi tra loro tanto da poter portare insomma a questa tragedia, come e chi doveva insomma individuare questa problematica così grave tra i due genitori di questo piccolo bandico. Fermiamoci qui perché ci torniamo tra un attimo. Dottorista Romano intanto facciamo una premessa con le nostre ospiti non entriamo nel caso di specie anche perché c'è un'inchiesta in corso quindi sarebbe anche poco opportuno entrare all'interno di una storia della quale le nostre ospiti non si occupano direttamente ma dal caso specifico ci possono aiutare a capire le dinamiche più in generale. Proprio con Carla Romano vorremmo cercare di capire cosa può essere accaduto. Facciamo un parallelismo, quello che è rimasto nella mente un po' di tutti, il caso di Cogne con questa donna che dicono le carte giudiziarie è stata condannata in via definitiva a Cogne. questa donna uccide in preda a un raptus il figlio di pochi anni mentre è nel sonno e poi cancella tutto, rimuove tutto, è davvero convinta di non avere fatto questa cosa e non è l'unico caso cioè quando una donna arriva a compiere un gesto del genere poi rimuove tutto. È un fenomeno che in psichiatria è noto. Sì anche se le dico che è estremamente raro esistono degli episodi di amnesia dissociativi ma sono dei casi rarissimi per cui il più delle volte questa rimozione che è abbastanza scenografica di fatto non c'è. In realtà diciamo gli episodi di infanticidio che purtroppo in Italia sono circa 20 all'anno quindi insomma non sono pochi possono derivare da varie forme psicopatologiche e non nel senso che ci sono degli aspetti psicopatologici più disparati. Ora lei ha nominato il caso di Cogne che è ben noto ma ci sono dei casi meno conosciuti assolutamente diciamo invece da approfondire perché un infanticidio si può commettere in virtù di un delirio, di un'allucinazione imperativa per una psicosia. Cosa è un delirio, un'allucinazione imperativa? Cioè per noi comuni mortali cosa potrebbero essere? Ha ragione, è un termine tecnico in psichiatria che spesso viene usato diciamo volgarmente in maniera inappropriata. Cosa accade in una donna in quel momento? Vede qualcosa che non esiste? In quel caso abbiamo un'allucinazione più che altro sente diciamo nelle psicosi perperali sono più frequenti le allucinazioni uditive per cui più che vedere sente, sente delle voci che danno indicazioni su cosa fare e quindi magari ordinano di uccidere il bambino per svariati motivi che le voci possono anche indicare insomma per salvare il mondo cioè intendo cose di questo genere come anche sulla base... Quindi sono convinti di sentire delle voci? Non sono convinti, le sentono, è un po' diverso, le sentono. Fa proprio differenza. Io dico così perché fa differenza. Lei da medico giustamente, io da profano dico stento a credere che una persona possa sentire delle voci che in realtà non ci sono. Invece nella loro mente loro le sentono, le sentono davvero. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi vabbè insomma ci sono varie forme di allucinazioni però assolutamente sì, come anche possono sviluppare dei deliri di rovina quindi diciamo su una base depressiva in genere di fine del mondo per cui diciamo in qualche modo l'infanticidio è un atto estremo per salvare il proprio figlio da una rovina del tutto immaginaria, chiamiamolo così, però di fatto proprio con un connotato delirante. Ci sono stati altri infanticidi davvero particolari che diciamo queste mamme erano affette dalla sindrome di Munchausen per procura che è un altro caso raro che però accade per cui diciamo che c'è questa presunta patologia del bambino che in realtà è simulata dalla mamma. C'è stato un caso poco seguito ma a mio avviso invece estremamente interessante perché questa donna che aveva vari figli perde un bambino per una forma di epilessia gravissima incurabile e successivamente un altro figlio sviluppa la stessa malattia insomma per farla breve mettendo delle telecamere in ospedale si è scoperto che era la madre a andurre questo sindrome epilettica fino alla morte per cui diciamo lo stesso risultato può derivare da varie forme diverse di psicopatologia ma anche no, cioè nel senso può anche non essere ascrivibile a una patologia per cui può anche derivare da semplicemente un omicidio preterintenzionale per esempio. Quindi che è andato al di là dell'intenzione cioè volevo soltanto punirlo oppure indurlo a smettere di piangere sono andato oltre l'intenzione quindi c'è l'omicidio preterintenzionale. Non sveliamo nulla nel dire perché è oramai un fatto notorio che la signora in questione, la mamma del piccolo Gabriele in questo periodo stessa attraversando un periodo di difficoltà, una forma depressiva. In questi casi, senza voler entrare nel caso specifico ma in questi casi cosa può accadere? Cioè il soggetto, la mamma non si rende conto della portata delle proprie azioni cioè in questo caso possiamo parlare di un omicidio volontario compiuto proprio con la volontà di sopprimere il bambino? Beh, nel caso specifico ovviamente non le so rispondere però possiamo dire con certezza che tutte le mamme in una percentuale dal 3 al 6%, forse sottostimata anche, va incontro a una depressione postpartum che comporta ovviamente una difficoltà a relazionarsi con il bambino, cioè il bambino viene allontanato non viene curato, il bambino diventa esso stesso un problema e di questa percentuale dal 3 al 6% spesso addirittura inizia prima del parto, con tutti i sintomi depressivi che caratterizzano la depressione maggiore quindi apatia, abulia, anedonia, scarse igiene di sé, scarso sonno, scarso riposo notturno, scarso appetito sono tutti i sintomi depressivi che possono portare a delle alterazioni di coscienza. Intanto chiariamo subito una cosa, è un fatto noto in psichiatria quindi non bisogna spaventarsi se si hanno questi sintomi perché è possibile assolutamente, anzi più delle volte vengono affrontati e risolti, l'importante è non nasconderli neanche a se stessi. Assolutamente sì, abbiamo oggi delle terapie assolutamente efficaci, varie categorie farmacologiche oltre al supporto psicoterapico, c'è secondo me da segnalare un altro aspetto che ha a che fare con i cambiamenti socioculturali, nel senso che non esiste più la famiglia allargata di una volta dove il supporto naturale, mi riallaccio a quello che diceva il sindaco, chi è l'istituzione? La prima istituzione dovrebbe essere la famiglia, per cui diciamo che crescere un bambino sotto lo stesso tetto dove vive la nonna, la bisnonna e il nonno, insomma si creava quella rete naturale di supporto che oggi per una serie di cambiamenti sociali viene a mancare, per cui io invito tutti i familiari che colgono un qualsiasi dettaglio particolare a rivolgersi allo specialista perché fare diagnosi differenziale è veramente difficile, quindi non ci si può avventurare ovviamente va fatto da uno specialista e come diceva lei direttore assolutamente combattere lo stigma una visita psichiatrica è come una visita endocrinologica, non so come dire, non c'è differenza Mi correzza se sbaglio, allora non dovete avere paura, lo dico soprattutto alle signore non dovete avere paura se a un certo punto vi sentite come se le forze vi venissero a mancare non vi sentite adatte a crescere questo bambino, è normale all'interno di un certo range perché comunque una gravidanza comporta uno sforzo enorme, un cambiamento ormonale totale è una tensione continua, quindi all'improvviso il ritorno all'allineamento che c'era in precedenza può portare a questo tipo di reazione, anzi ci ha detto Carla Romano è molto consueto l'errore è fingere che questo non stia accadendo ma perché mi succede prima non succedeva, allora sono diversa dalle altre e non sono in grado no, ci ha detto guardate che prima c'era la rete familiare cioè c'era la mamma, c'era la nonna, c'era la bisnonna che c'erano passate prima e quindi intervenivano, aiutavano, alleviavano o compensavano quel senso di inadeguatezza adesso la società è cambiata, quindi così come andiamo dall'endocrinologo nel momento in cui c'è qualche sintomo di questo tipo si va a fare una visita, dottoressa ho questi sintomi e ci ha detto la dottoressa Romano si affrontano con assoluta competenza e conoscenza e si risolvono tranquillamente Daniela Ruffino, assistente sociale ricordiamo cosa fanno gli assistenti sociali cioè siccome la società cambia gli schemi di comportamento all'interno di una famiglia sono diversi c'è quindi una persona che può assistere le famiglie nei momenti di difficoltà perché mentre prima c'era appunto la rete familiare che compensava a tutto oggi la società è completamente diversa quella di una o due generazioni fa cosa fa un assistente sociale? Ricordiamolo Allora, per quanto riguarda il mio ruolo all'interno dei comuni del Cassinate, come lei ha anticipato poc'anzi io mi occupo del segretariato sociale e segretariato professionale quindi quello che riguarda un po' il supporto alle persone che si rivolgono allo sportello per varie ed eventuali anagrafiche o interventi a livello proprio di documentazione per presentare diverse domande e quant'altro nello specifico l'intervento un po' più delicato è proprio quello che si fa presso le famiglie presso le persone che hanno delle difficoltà ovviamente non abbiamo il potere di intervenire laddove le realtà non sono conosciute bene o male essendo dei piccoli paesi dove opero le realtà sono abbastanza note al servizio ma questo non significa che ci fiano delle difficoltà reali è molto importante la collaborazione con le altri enti con le istituzioni scolastiche per esempio lì dove ci sono dei minori cosa che già qui per quanto riguarda questo caso giusto per fare un piccolo riferimento non era possibile in quanto il bambino era in età prescolare quindi era assurdo insomma poter immaginare un coinvolgimento di un ente diverso mettiamo in chiaro una cosa dottoressa allora per chiarire a casa l'assistente sociale non è un ficcanaso che viene a vedere dentro ai fatti nostri assolutamente no io parlo proprio per la mia categoria cerchiamo di dare quello che è un supporto laddove ci sono delle difficoltà a 360 gradi a livello comunale essendo un settore non specifico come potrebbe essere un punto di riferimento psichiatrico un csm o un tsm re dove arriva un tipo di utenza presso i comuni arrivano tutti cioè c'è dalla coppia conflittuale con minori c'è dalla persona che subisce delle violenze c'è di tutto quindi noi come comune dirottiamo in qualche maniera attraverso il lavoro di rete a quelli che sono poi gli organi di competenza ci spieghi un attimo questa rete perché ci diceva il sindaco io nel mio comune ho un assistente sociale che come c'è una difficoltà scrive senza problemi a chi scrivete? allora lo posso confermare perché conosco la collega quindi lancio proprio una freccia a suo favore perché la conosco personalmente allora a chi scriviamo? qualora riteniamo opportuno quindi nel momento in cui vediamo che c'è una difficoltà un problema grave di gestione dei minori può essere un'alta conflittualità tra i genitori oppure uno stato di abbandono oppure quando ci vengono delle segnalazioni da terzi che possono essere le autorità giudiziarie come i carabinieri o dalla scuola stessa quindi o per evasione scolastica o per mancata cura ovviamente facciamo prima quello che è il nostro accertamento quindi eventualmente una domiciliare chiamiamo i genitori a colloquio cerchiamo di capire insomma lì dove esiste dove è nato e come si può risolvere insieme il problema qualora non è possibile fare questo tipo di intervento che rimane quindi circoscritto all'ambito comunale quindi tra servizio e utenza si iscrive al tribunale alla procura presso il tribunale dei minorenni a Roma ci sono alcuni casi nei quali vi dovete assumere la responsabilità di dire questo bambino va tolto dal nucleo familiare quanto è difficile? allora c'è un articolo ex articolo 403 del codice civile che ci dà la possibilità di togliere è brutta come terminologia però è proprio così da uno stato di pericolo evidente pericolo abbandono pericolo per l'incolumità immediata del minore e di affidarlo ad una struttura congrua che ovviamente va ricercata possibilmente nella zona o se ci sono livelli di pericolosità da parte dei genitori di atteggiamento da parte dei genitori anche fuori zona lo possiamo fare lo possiamo fare comunque con la convalida delle forze dell'ordine che devono accompagnarci e verificare insieme ai nostri occhi quello che accade quello che sta accadendo diciamo che è in extremis umanamente io sono mamma e le posso garantire che non è assolutamente semplice è capitato? sì anche perché in quel momento magari si pensa faccio più danno se lo lascio qui indubbiamente questo è quello che aiuta diciamo che questa è la motivazione principale sindaco nel caso quindi di specie abbiamo detto a Chiedemonte intanto non si può parlare di una storia che fosse sotto gli occhi di tutti perché sotto gli occhi di tutti non era è un nucleo familiare che è arrivato qui si è formato da meno di un anno e comunque la rete di controlli cui fa riferimento la dottoressa Ruffino comunque c'è e ha funzionato ed attimo certo è che non sono arrivati gli input lei oggi parlava appunto di indifferenza cioè qualcuno avrebbe potuto dire qualcosa in più c'è qualche cosa che si poteva fare secondo lei non dal punto di vista giuridico non dal punto di vista delle procedure ma dal punto di vista della sensibilità perché come ci diceva Carla Romano la società è cambiata a differenza del passato oggi tendiamo molto a farci i fatti nostri non ci impicciamo molte volte invece potremmo salvare un bambino era questo che si riferiva? sì precisamente questo era il mio invito nei confronti della comunità di Piedimonte San Germano guardi direttore la questione che poi ha portato da parte mia l'invito alla cittadinanza è scaturita soprattutto da una serie di interviste che si sono avvicendate in questi giorni in quest'ultima settimana in cui molti cittadini dichiaravano era sotto l'occhio di tutti tutti sapevamo tutti conoscevamo tutti tutti sapevano ma la problema e quindi poi su quello giustamente l'informazione costruisce il caso un fatto di cronaca purtroppo a livello nazionale e da lì è sembrato che sia passato un messaggio dove c'è stata una totale indifferenza da parte di un'intera comunità chiariamo anche una cosa perché ci sono colleghi che vengono catapultati qui non conoscono assolutamente il posto e immaginano di essere in una sorta di enclave dell'ultimo gradino dell'umanità e quindi prendono per buono qualsiasi cosa poi gli venga detto chi è qui gli operatori dell'informazione del posto ponderano le cose con un metro assolutamente diverso era sotto gli occhi di tutti ma allora perché nessuno è venuto a raccontare quello bisognava ben capire sotto gli occhi di tutti che quella famiglia o quel nucleo avesse un problema un disagio economico allora a fronte di quel disagio economico si applicavano delle misure per il contrasto alla povertà seppur vecchiotte queste misure per il contrasto alla povertà ma queste sono e noi le avevamo attivate come servizi sociali e come comune ma se c'erano invece questo è quello che è stato il mio monito insomma nei confronti dei miei cittadini cose più gravi allora devono essere segnalate quindi questo era il mio il senso del mio intervento del mio invito oggi le posso dire sindaco che abbiamo avuto modo di vedere tante persone che non sono residenti nel suo comune ma curiosi che si sono messi sotto i riflettori e presi da questa frenesia da questa malattia di apparire hanno parlato come se abitassero lì quando invece qui ci conosciamo tutti non erano della zona sì questa è la cosa più grave si è cercato insomma di creare un'immagine collettiva insomma generale del nostro territorio come quasi insomma da terzo mondo insomma io devo difendere quella zona la zona ad esempio di Volla che è stata giudicata come una zona periferica quasi come una delle zone più malfamate quando lì in realtà ci sono diversi nuclei proprio lì attaccati nuclei familiari insomma di persone per bene dove la maggior parte sono quelle di una zona insomma viva di una zona attiva dove ci sono professionisti famiglie quindi dove ci sono anche la presenza di alcune famiglie che purtroppo hanno un disagio economico e far passare questa città far passare un dramma perché quella è una tragedia cogliendo insomma ecco delle dichiarazioni magari anche di persone che o per apparenza o per manie di protagonismo o magari per lasciatemelo passare anche alcune volte per come diceva lei per apparire beh allora bisogna far riflettere le persone e quindi oltre all'invito di intervenire di segnalare ma anche di riflettere e soprattutto di capire che è il momento di stare in silenzio ma non un silenzio che deve essere omertoso anzi l'invito è quello di intervenire e segnalare quelle che sono le problematiche perché questo solo così una comunità può crescere ma l'invito è di riflettere soprattutto sulle situazioni che potrebbero soltanto creare un'immagine collettiva diversa di quella che è il nostro territorio Carla Romano abbiamo detto prima delle donne e del problema al quale può andare incontro una donna dopo la gravidanza abbiamo detto anche che non bisogna sottovalutare tutta una serie di segnali c'è una rete di assistenza che è in grado di affrontare questi casi abbiamo non abbiamo parlato però della figura maschile che è presente in questa storia un uomo che dice all'inizio io no assolutamente non c'ero trascorre l'intera giornata successiva a quella della tragedia davanti a tutte le telecamere a uno a uno ha fatto il pellegrinaggio tra tutte le telecamere raccontando che lui non c'era se io ci fossi stato io avrei impedito io sarei intervenuto a distanza di qualche ora proprio dopo avere sentito quelle dichiarazioni la magistratura lo manda a chiamare e dice approfondiamo un attimo una serie di dettagli che ci ha detto la signora perché ha raccontato una cosa un po' diversa questo signore all'esito di questo interrogatorio viene trattenuto nel carcere di Cassino dal quale in preda a una crisi di pianto tramite il suo avvocato chiede di poter fare delle spontanee dichiarazioni dice io c'ero ho assistito e non sono intervenuto trascorrono altre 24 ore e di fronte al giudice che fa l'interrogatorio di garanzia ritratta tutto senza entrare nel caso specifico non siamo in presenza di un matto ma sono delle dinamiche che sono normali tra virgolette in psichiatria all'interno di una mente umana cioè cosa accade di fronte a una tragedia del genere l'uomo rimuove cerca di cambiare il suo ricordo perché è troppo pesante accettarlo cosa accade si diciamo che anche la figura paterna sta cambiando i connotati non conosco insomma il signore nello specifico però in generale parlo sempre nella nostra società attuale tenga presente che degli studi recentissimi mi riferisco al 2015 presso la McGill University che è una delle principali facoltà di medicina hanno scoperto che la depressione postpartum affligge anche il papà ovviamente la premessa è che non sto parlando di questo caso specifico però per dire che anche le modalità relazionali con la prole o con la compagna vanno cambiando fatta questa premessa diciamo risulta abbastanza difficile pensare per esempio ad un caso di follia 2 che se anche esiste è molto raro anche lì il più delle volte coinvolge delle coppie madre figlio per cui ci sono dei casi di follia si chiama proprio così in francese ma ci sono dei casi molto rari che coinvolgono due persone difficilmente però questo accade in una coppia di partner per cui diciamo che le persone che assistono a degli eventi traumatici in genere hanno tre reazioni o si paralizzano o fuggono oppure scusate c'è un attimo di amnesia quindi sono tre possibili reazioni diciamo le introduco alcuni elementi ci sono degli schemi di reazione che sono automatici nell'essere umano perché la prima reazione è quella di andare a cercare nella nostra esperienza quindi cosa mi insegna l'esperienza cosa devo fare è uno dei concetti chiave uno dei principi di comportamento che è il concetto della riprova sociale cioè io non so che cosa devo fare quindi cerco il mio schema di reazione in quella che è quello che fanno gli altri ma di fronte a una donna che sta uccidendo un bambino neanche mi rendo conto e quindi mi posso paralizzare oddio che cosa faccio posso scappare oppure in qualche modo intervengo esatto fight è la terza ipotesi scusate mi venivano i termini in inglese non mi veniva la traduzione in italiano quindi diciamo le tre possibilità istintive quindi parliamo di istinto che non risalgono all'esperienza risalgono proprio a qualcosa di innato dentro di noi sono queste tre possibilità prima che intervenga la ragione per cui bisogna anche come dire quantificare il tempo dell'evento perché se un evento improvviso io avrò solo il tempo di avere una di queste tre reazioni istintivamente se il tempo è prolungato posso come dire intervenire con la logica e fare altro questo insomma per noi non è dato saperlo però diciamo che le tre reazioni istintive possono essere queste poi ripeto anche gli uomini possono avere dei disturbi psichiatrici assolutamente ma insomma entriamo in un altro campo in questo caso si parla di una coppia infastidita dal pianto dai capriccio e da quello che fosse del bambino è una forma di egoismo dell'adulto che non è pronto a dover sottostare ai ritmi che invece gli impone il bambino questa reazione è possibile nell'essere umano però va contestualizzata cioè è ovvio che sia una situazione economicamente stabile una situazione in cui sono appagato sentimentalmente ho una rete familiare valida eccetera sono anche in grado di resistere a degli stimoli fastidiosi diciamo così in maniera più tenace in una situazione di stress ma questo vale in generale non esclusivamente insomma rispetto ai bambini qualsiasi stimolo per me diventa intollerabile e anche nei casi di depressione cioè una persona depressa ha una soglia diciamo così di reattività molto molto spiccata cioè completamente diversa da una persona sana momento soltanto dottoressa Ruffino in un caso del genere si può arrivare a pensare di dire allontaniamo la mamma dal bambino per un certo periodo oppure come si interviene perché comunque è un periodo transitorio è un periodo nel quale la donna è sottoposta a fortissimo stress ci diceva la dottoressa Romano c'è questa soglia di reazione che è esagerata come si interviene in questi casi allora in questi casi se esiste una rete familiare in genere si preferisce la rete familiare ad un istituto quindi si dice mandiamolo un po' con la nonna forse alleggerisce anche se questa modalità va comunque segnalata in tribunale possiamo farlo in maniera autonoma al momento ma comunque va comunicato in procura perché la situazione si e la situazione poi comunque va in qualche modo tenuta sotto controllo questa è la prima opzione qualora una rete familiare è inesistente si trova una soluzione diversa che è l'inserimento in struttura che non è mai un inserimento definitivo è un inserimento provvisorio si scriverà tale modalità per cui si è dovuto arrivare a tanto e si faranno tutti i controlli del caso in itinere la madre potrà vedere il bambino o la bambina in questo caso in ambiente protetto e non si esclude la possibilità di un rientro per il diurno in istituto e il serale in casa o durante il weekend poi dipende dal caso insomma ogni caso va bagliato per quindi diciamo che noi non abbiamo delle soluzioni che sono drastiche nette ma si tiene conto si contempera questa esigenza e comunque il protagonista è sempre il bambino che deve essere tutelato prima della pubblicità abbiamo detto lei è responsabile delle REMS ricordiamo che da qualche anno in Italia abbiamo tolto quelli che erano i carceri giudiziari dove dicevamo questo è matto ha compiuto un delitto e quindi lo tengo lì dentro in Europa hanno detto ma se è matto non puoi tenerlo in un carcere le due cose non sono compatibili in un carcere tu metti una persona per punirla perché scientemente ha fatto una cosa se non è in grado insomma non è lucido il carcere non è il luogo più adatto ci spiega che cos'è una REMS e ricordiamo quando è venuto il professor Ferrauti in questi studi ha sempre portato come evidenza quando vi si presentò a Ponte Corvo questa commissione mandata dall'Unione Europea dove nessuno parlava italiano e sono venuti a controllare l'Italia cosa stesse facendo e quel giorno non era in discussione o meglio sotto esame tanto Ponte Corvo la Asla di Frosinone quanto quello che stesse facendo tutta quanta l'Italia e ne siete usciti promossi a pieni voti che cos'è una REMS? una REMS è una residenza per l'esecuzione di misura di sicurezza questo è l'acronimo che cosa vuol dire che pazienti ospediamo sono autori di reati non imputabili per vizio totale di mente o a volte per vizio parziale quindi sono degli autori di reati assolti in quanto incapaci di intendere e di volere al momento del fatto reato quindi chiariamo una cosa per chi non conosce il codice non si può punire una persona se nel momento in cui commetteva un reato non era in grado di capire che quello era un reato anche se non l'ho fatto apposta magari sono stato negligente non sono stato attento ma comunque mi sono assunto il rischio potenziale di fare una cosa sbagliata in questo caso siamo in presenza di persone che non sono assolutamente in grado di rendersi conto di quello che hanno fatto e attenzione non stiamo dicendo che i protagonisti della storia di Gabriel siano in queste condizioni stiamo spiegando che cos'è una REMS e stiamo dicendo che se una persona non è in grado di rendersi conto che quello che sta facendo è un delitto e comunque non ti posso tenere in mezzo alla società perché potresti essere pericoloso ma neanche ti devo chiudere in un carcere quindi ti metto in una struttura dove devi essere curato in pratica cosa accade? esatto in realtà diciamo se la persona viene assolta per vizio totale il giudice chiede sempre un parere sulla pericolosità sociale che potrebbe anche non esserci per cui la persona rimane libero quindi assolto per vizio totale cioè non era assolutamente in grado di rendersi conto che stava ammazzando una persona ma potrebbe essere socialmente pericoloso quindi viene disposto il ricovero in una REMS esatto per cui è diciamo così affidato alle cure di specialisti voglio ricordare che nelle REMS non abbiamo assolutamente amministrazione penitenziaria guardia penitenziaria abbiamo solo personale sanitario siamo solo medici infermieri os assistenti sociali psicologi e terapisti quindi non c'è assolutamente la presenza di polizia penitenziaria per cui noi curiamo queste persone trattiamo queste persone non solamente attraverso i farmaci i percorsi riabilitativi sono molto complessi individualizzati per cui si punta anche al rinserimento sociolavorativo al proseguo degli studi si cercano di come dire discriminare quali sono le potenzialità di ciascuno di loro tra l'altro quella commissione mandata dall'unione europea per vedere cosa stesse combinando l'italia a ponte corvo controllò una cosa in particolare l'uso dei farmaci cioè vedere se imbottivate di farmaci questa gente perché non ci nascondiamo è molto molto più facile imbottirli di farmaci poi mi raccontavano i suoi colleghi prima che intervenisse la nuova normativa capitavano dei casi insomma quando mi occupavo di cronaca nera le posso dire delle situazioni al limite della follia le forze dell'ordine prendevano questa persona che aveva compiuto un reato lo portavano in ospedale perché era obbligatorio un trattamento sanitario imbottito di farmaci quando passava l'effetto del farmaco questa persona si era accalmata quindi tornava libera e c'era questo continuo ciclo che non consentiva di risolvere il problema ora invece il problema lo risolviamo con la REMS non si imbottiscono di farmaci ma guardi non si imbottiscono io insomma qui spezzerei una lancia in favore della psichiatria contemporanea diciamo negli anni 50 avevamo dei farmaci un po' diversi oggi anche la farmacologia si è evoluta per cui questo mito dell'imbottire di farmaci non esiste più i profili di effetti collaterali sono decisamente diversi e hanno una maneggevolezza decisamente migliore oggi quindi diciamo se fosse possibile non la posso fare entrare in REMS ma se fosse possibile lei avrebbe delle persone assolutamente lucide insomma consapevoli però sane cioè nel senso comunque con i sintomi controllati dalla terapia farmacologica necessaria mi ho 30 secondi quante persone che entrano nella REMS escono poi con un quadro clinico molto molto favoribile cioè non dico guarite ma in grado di stare in mezzo alla collettività potrei osare anche il 100% perché sono tutti trattati quindi ci fermiamo per la pubblicità un minuto e mezzo non vi muovete seconda parte di a porte aperte stiamo parlando del caso di Piedimonte San Germano Daniele Ruffino ci sono dei segnali che bisogna cogliere perché prima ci diceva il sindaco tutti quanti si sono messi sotto i riflettori a dire era sotto gli occhi di tutti era sotto gli occhi di tutti ma cosa era sotto gli occhi di tutti allora appurato che molti di quelli che sono andati sotto i riflettori manco erano della zona ma erano dei curiosi venuti lì attratti dalle telecamere però comunque è innegabile che ci siano in linea di principio degli elementi sui quali bisogna prestare attenzione allora una cosa è magari la irritabilità estrema che ci può essere in un momento di nervosismo in una situazione di tensione come ci diceva la dottoressa Romano magari in un momento depressivo che è transitorio che passa si può reagire in maniera esasperata però ci sono dei campanelli d'allarme che andrebbero segnalati ci può dire dall'alto della sua esperienza quali possono essere i campanelli d'allarme da non sottovalutare cioè qual è il momento in cui non è più uno sfogo normale ed è opportuno cominciare a dire guardate forse lì in quel contesto familiare c'è qualcosa che non va allora indubbiamente le persone più vicine a questa tipologia di nuclei familiari sono gli unici testimoni che in qualche modo possono provare anche nel tempo quanto può durare o meno una problematica perché magari alzare la voce con un bambino o non voglio neanche ammetterlo però lo scappellotto può starci questo non significa che c'è una problematica ma laddove esiste un perpetrarsi di un comportamento quindi grida continuo e bambini maltrattati o stato di abbandono evidente agli occhi di chi abita nel vicinato familiari di rimpettai lì è possibile alzare un attimino la voce più che la voce io direi di alzare un attimo anche un telefono chiamare chi di dovere almeno per dare un'occhiata perché non è detto che una segnalazione anche anonima telefonica fatta al servizio sociale possa poi sfociare ecco in un allontanamento del bambino in un qualcosa di di irrimediabile probabilmente un accesso in casa segnalato dovutamente segnalato a chi di dovere quindi in questo caso parlo per per quanto riguarda il mio ruolo può in qualche maniera arginare e impedire tra virgolette che accada il peggio quanto siamo cambiati nel senso da quando lei ha cominciato a studiare per fare la professione che svolge oggi a oggi quanto è cambiata la società perché prima ci diceva la dottoressa Romano c'era questa rete familiare e quindi compensava in qualche modo oggi invece i casi di violenza domestica cioè il fatto di alzare le mani sui figli di usare la violenza come strumento coercitivo nel sfogarsi magari sui bambini delle proprie frustrazioni quanto è diffuso è abbastanza diffuso diciamo che vengono definiti come abuso dei mezzi di correzione diciamo che la famiglia adesso è composta da moglie e marito che spesso laddove lavorano entrambi hanno difficoltà nella gestione dei bambini che non hanno i nonni o quando hanno i nonni sono in posti piuttosto lontani o comunque non c'è disponibilità perché anche si lavorano quindi dove mantenere il bambino i servizi territoriali magari non c'è l'asilo nido quando sono così piccoli soprattutto e l'asilo nido è dispendioso la gestione dei bambini diventa sempre più difficile perché sono più svegli rispetto magari a quello che potevamo essere noi della nostra generazione che ci sono molto più stimolati perché giustamente hanno la televisione hanno fin dall'infanzia ci sono i cartoni animati pensati per i bambini che ancora non parlano basati sui colori sulla ripetizione ossessiva della stessa scena perché comunque li aiuta a memorizzare a creare i processi cognitivi quindi sono molto molto più svegli di quella che erano una, due, tre generazioni precedenti precedenti quindi lei ci diceva la reazione comunque anche della famiglia è legata molto allo stress dei ritmi della vita c'è meno pazienza c'è quella pazienza che manca alla rete familiare di una volta quindi laddove la mamma perdeva la pazienza c'era la nonna quindi se non c'era la nonna c'era il nonno oppure c'era il papà che rientrava a casa che custodiva quel momento come un momento di ludico con il bambino adesso si rientra a casa e ci sono altre cose da fare i bambini sembra quasi un in più a quello che è il management della famiglia di oggi dei nuclei di oggi tant'è vero che le conflittualità sono veramente all'ordine del giorno sindaco allora abbiamo detto in questo caso specifico comunque la rete della scuola non poteva segnalarvi nulla perché il bambino non era in un'età scolare comunque chi era lì attorno aveva vedeva una famiglia che è comunque in una condizione certo non di lusso però comunque che poteva condurre un'esistenza decolosa anche grazie agli interventi che erano che erano stati fatti e a questo punto però parliamo di un problema che in un agglomerato urbano come quello di Piedemonte San Germano invece può esistere perché ci dice la dottorissa Ruffino guardate che la società oggi è molto molto diversa in una realtà urbana industriale come quella di Piedemonte San Germano quanto deve lavorare la sua assistente sociale perché lei prima ci ha lasciato intuire al minimo problema scrive e segnala subito a chi di dovere meglio una segnalazione in più che è un problema lasciato lasciato alle spalle quanto sono concreti quanto sono abbondanti i problemi di questo tipo che ci diceva la dottorissa Ruffino guardi lettore la risposta alla sua domanda costa di due secondo me di due contenuti la prima cosa che tengo a dire è che Piedemonte sebbene Piedemonte San Germano sebbene una città di 6.700 abitanti risulta essere quella che è la città più industrializzata diciamo così nella zona del Lazio Meridionale e come città più industrializzata le do un dato noi abbiamo circa 600 pratiche di immigrazioni all'anno di persone che vanno e vengono in maniera stabile e un comune di 6.500 abitanti significa il 10% quindi il 10% di persone che vanno e vengono di cui non si conosce neanche quella che potrebbe essere la storia stessa capisco bene il 10% della popolazione del suo comune tra gente che se ne va perché dice ho finito di lavorare qui mi trasferisco alla Sevel di Atessa ad esempio o mi trasferisco a Pomigliano d'Arco quindi me ne vado da qua ma nel frattempo arrivano altri da qua che pensano di restare in maniera stabile quindi prendono la residenza il 10% sono più di 500 le pratiche di immigrazione che ogni anno vengono effettuate dal comune di Piedimonte San Germano questo è un dato che ho tratto dall'ufficio Anagrafe che me lo ha confermato come fate a conoscere poi le storie di un'unica questo è il dramma perché tra l'altro e poi la dottoressa Ruffino me lo può confermare non è che c'è una cronistoria di ogni famiglia che viene e che chiede la residenza sul territorio cioè viene fatta la richiesta di residenza e viene fatto l'accertamento se quel nucleo è presente all'interno di quella determinata unità immobiliare ma non porta con sé quella che potrebbe essere una storia che tra l'altro potrebbe essere nascosta di quel nucleo familiare e corregga insomma se mi sbaglio poi c'è un altro problema direttore il problema è che i bilanci comunali vertono su quelle che sono le risorse da una parte del trasferimento dello Stato e dall'altra quelli che sono purtroppo le imposte che noi appliciamo ai nostri concittadini una eventuale come diceva bene la dottessa Ruffino affidamento di un minore verso una casa famiglia o un tentativo di adozione prevede una retta sempre su quello che è il bilancio comunale così come una retta per una residenza sanitaria per un anziano e dobbiamo fare i conti con quelli che sono purtroppo i conti dei bilanci che sono sempre più ristretti e questo è un appello e oggi mi faccio anche portavoce di un senso comune da parte di tutti i sindaci ringrazio quei sindaci che hanno espresso solidarietà ad essere presenti lì vicino a me oggi in quella piazza in quella chiesa proprio perché è un altro dramma cioè noi dobbiamo far fronte da una parte siamo chiamati ad essere esattori delle tasse nei confronti dei nostri cittadini e quindi magari applicare gli aumenti di un punto percentuale dell'IRPEF o di un punto percentuale dell'IMU per far quadrare i conti e tra questi conti c'è anche il sociale Dottorissa Romano lei prima ci parlava delle REMS e all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di donne che a un certo punto di fronte a un delitto grave come l'uccisione del proprio figlio rimuovono lei però ci ha tolto anche una falsa convinzione cioè non tutte rimuovono anzi l'amnesia molte volte è più scenografica e quindi dopo un po' la memoria ritorna cosa accade in una donna però quando assume consapevolezza del gesto che ha compiuto perché una cosa è l'incapacità di intendere e volere una cosa è non mi sono reso conto di quello che ho fatto della gravità di quello che ho fatto arriva un momento in cui si ha percezione del crimine che è stato commesso beh assolutamente sì non solo nelle donne in tutti gli autori di omicidi insomma prima o poi arriva nel caso di una mamma lei capisce bene che la risonanza emotiva è ben diversa e per me come psichiatra è sempre un momento di grande apprezzione e cerchiamo di seguire queste pazienti in maniera proprio anche sugli orari capillari cioè con dei controlli anche a vista molto frequenti perché il più delle volte il risultato è il suicidio quindi ho quantomeno il tentato per cui diciamo bisogna mettere in atto tutta una serie di adempimenti non solo farmacologici per evitare che questo accada cioè voi dovete curare anche questo poi cioè assolutamente nel momento in cui si rendono conto perché all'inizio li curate per fargli capire guarda che cosa hai fatto e poi li dovete curare per aiutarli a superare il trauma di quello che loro stessi hanno compiuto assolutamente riprendere in mano la vita ma questo guardi precedentemente alla REM sono lavorato tanti anni in carcere e questo accadeva per qualsiasi omicidio perché spesso la persona autore di un omicidio prima o poi prende consapevolezza quindi sono sempre dei momenti estremamente delicati e non è detto che lo psichiatra sia pronto in quel momento per cui bisogna sempre predisporre tutte le misure atte a prevenire eventuali tentativi di suicidio diciamo che nella mamma in cui magari è sopravvissuto uno dei figli in genere le mamme se la mamma cerca di uccidere i figli li fa con tutta la prole però diciamo se c'è un superstite è sicuramente una resilienza molto importante per cui lavorare sul recupero di questo legame può tenere in vita la persona viviamo come se tutto fosse un film o fossimo dentro una playstation come se fosse tutto quanto una recita alla quale noi assistiamo stando dentro a un certo punto però chi commette un omicidio si rende conto perché potremmo pensare va bene ho compiuto questa cosa amene volto le spalle non è vero niente non è successo nulla è come nel film si rialza e mi autoassolvo a un certo punto poi ci si rende conto si intanto dipende se l'omicidio è commesso in quanto legato a una patologia perché come le dicevo se io compio l'omicidio per salvare l'umanità in qualche modo ho fatto un gesto effettivamente importante spesso diciamo ecco sono frequenti deliri mistici per cui capita che magari l'omicidio è stato demandato direttamente da Dio per salvare l'umanità cioè ci sono dietro questi deliri che le dicevo prima se l'omicidio è fatto per altri motivi sicuramente non è detto che ci sia la dissociazione l'amnesia dissociativa o altri fenomeni psicopatologici chiarissimo quindi in questo caso dobbiamo aspettarci che questa signora di qui a poco cominci a prendere anche consapevolezza di quello che è avvenuto beh io non saprei dire se è già accaduto o se accadrà in futuro però in genere prima o poi accade statisticamente prima o poi accade sì assolutamente prima o poi accade ma le dico anche che spesso la lucidità come le dicevo l'amnesia è un fenomeno molto raro spesso la lucidità si ha anche a pochissime ore dall'accaduto per cui diciamo ci sono degli autori di reato delle donne che sono in grado di raccontare lucidamente passo passo tutti gli eventi che sono accaduti in maniera assolutamente attendibile una sorta di elaborazione del crimine come c'è l'elaborazione del lutto anche l'elaborazione del delitto che è stato commesso si arriva quindi a rendersi conto di questo sindaco questa storia insegna qualche cosa perché abbiamo detto in apertura si può sempre migliorare tutto anche se è stato fatto tutto ma comunque tutto si può migliorare questa storia come sindaco come persona le insegna qualcosa guardi direttore questa storia mi lascia sotto shock perché guidare una città come quella di Piedimonte San Germano che sulla carta risulta essere una città fiorente insomma che ospia uno degli stabilimenti più importanti del Lazio dove è accaduta una tragedia così effimera mi lascia insomma di stucco e sotto shock quello che può insegnarci è riflettere che a volte se è vero che accadono delle cose ma io parlo da cittadino non da sindaco bisogna essere avere il coraggio di segnalarle a chi di competenza non bisogna voltare le spalle rispetto a questioni che possono ecco salvare una vita perché poi qui direttore parliamo di una tragedia che vede purtroppo coinvolto un bambino di poco più di tre anni quindi l'insegnamento è una storia di degrado urbano perché insomma qui io anche trovo difficoltà a definirla perché comunque sono emersi dei dettagli nei quali il bambino infastidisce questa coppia che non può avere questo momento di intimità il padre che gli dà due schiaffi un bambino insomma di due anni la mamma presa da questo momento da questo raptus oltretutto in un periodo come abbiamo detto prima nel quale c'erano questi segnali di depressione che comunque gli mette la mano in bocca e che comunque ne provoca il soffocamento ma è anche quello che accade dopo cioè buttare il corpo in una cunetta per simulare l'incidente stradale il cercare di costruirsi l'alibi dicendo se te lo domandano di che stavo con te e non che stavo lì e la precedente compagna di questo signore ha detto non mi sono prestata a questa cosa cioè non siamo in presenza della conseguenza di un degrado di una città industriale ma di un fenomeno isolato a questo nucleo ma sicuramente direttore questo è il è il senso puro ecco la sua interpretazione è quella che va insomma a identificare un fatto un fatto tragico e quindi capire quali sono insomma i sintomi quali sono i campanelli di allarme per capire se una coppia possa essere veramente se qualora questa si possa definire coppia o meno una minaccia per un minore le parole dell'assistente sociale dottoressa Ruffino fanno capire che un minore che ha potuto subire un maltrattamento quello è un segnale frequentare il periodo della scuola e lì vedere se il minore frequenta se il minore vive quella è un'altra segnalazione ma un evento così tragico consumato tra due persone dove tra l'altro forse si incontravano per pochi per pochi minuti per poche ore saltuariamente forse per anche per consumare un rapporto lì come si fa ad intervenire se non chi è più vicino al bambino in questo caso o alla coppia ecco questo è il dato che ci fa rimanere scioccati e ci deve far riflettere per capire come prevenire a delle situazioni del genere che ringraziando Dio da un'analisi che prima ci diceva la dottoressa risultano comunque essere 20 casi a livello nazionale in un anno dottoressa Romano a questo proposito ma abbiamo detto qui non è che siamo in presenza di un caso che chiunque come qualcuno ha sostenuto era sotto gli occhi di tutti però c'erano alcuni segnali che uno specialista lo avrebbero messo in allarme perché abbiamo detto c'erano dei segnali depressivi in questa signora tra l'altro è stato raccontato che era stata accompagnata a fare delle visite le erano stati prescritti dei farmaci forse non aveva fatto in tempo a prenderli forse non seguiva la terapia ma questa sarà cosa che accerterà l'indagine andando però al caso in generale quali sono gli elementi ai quali prestare attenzione perché lei prima ha detto guardate non vi preoccupate perché è normale in determinate condizioni avere un momento di mancamento impressione di non farcela sappiamo come affrontarlo come gestirlo come curarlo non vi preoccupate come andare dall'endocrinologo ma a quale tipo di comportamento dobbiamo prestare attenzione qual è il campanello d'allarme fino a dove è normale da che momento in poi è opportuno dire forse il caso che mi consulti allora guardi direttore il baby blues è il primo gradino di questa scaletta il baby blues è quella tristezza dopo il parto che forse il 99% delle donne sperimenta che si può protrarre anche per diversi mesi e io lo chiamo parafisiologico nel senso che è già un'alterazione dell'umore dovuta a fattori sia ormonali che psicologici ovviamente e assolutamente non va trattato però io familiare già in presenza di un baby blues io una consulenza specialistica la farei perché poi è lo specialista che sa quali aree indagare quali sono le domande da fare quali sono le aree di andare ad approfondire e sarà lo specialista a dirmi siamo davanti a una depressione siamo davanti a una psicosi siamo davanti a un semplice baby blues per cui diversi reparti di ostetricia sono già attrezzati per questo in Italia nel senso che successivamente al parto in genere non uno psichiatra ma uno psicologo comunque somministra dei brevi questionari per vedere com'è diciamo l'andamento dell'umore dell'ansia eccetera quindi diciamo anche prevedere io parlo diciamo così per il futuro forse un'utopia però uno screening nel reparto di ostetricia stesso per fare un questionario bastano 20 minuti insomma e quindi in qualche modo andare ad individuare una popolazione target su cui fare poi degli interventi e degli approfondimenti non è un progetto particolarmente oneroso da un punto di vista anche economico per cui magari qualche accortezza in più visto il cambiamento della società potremmo prenderlo proprio come società scientifica diciamo cioè visto che Frusinone molte volte è stata in prima linea in determinati progetti anche per spostare più in alasticella per modernizzare quelle che erano i punti di vista le convinzioni secondo lei questo caso ci insegna qualche cosa qualche cosa da approfondire come quello che diceva ma guardi il nostro direttore del dipartimento il professor Ferrauti è stato un pioniere in tantissimi settori per cui siamo stati all'avanguardia ricordo che la prima Rems Femminile in Italia l'ha aperta il direttore Ferrauti ancora prima del termine di inizio insomma quindi sicuramente potrebbe essere una sfida da accogliere come dipartimento per creare una collaborazione una sinergia con i reparti di ostetricia perché sono dei reparti particolari che vanno seguiti magari anche da altri specialisti per carità sicuramente il ginecologo maneggia anche insomma a dimestichezza con questo tipo di patologie però avere magari al servizio uno specialista del settore potrebbe essere utile come screening per quanto riguarda i familiari io dirò una cosa banale ma siccome ci credo profondamente da professionista faccio questo mestiere da anni il sonno io quando visito il paziente la prima cosa che chiedo quante ore dorme a che ora si addormenta a che ora si sveglia si sveglia stanco o riposato sembreranno delle domande banali io da queste quattro domande potrei fare diagnosi ora davvero sembra eccessivo però vi assicuro che le funzioni fisiologiche del nostro organismo ci raccontano tante cose del nostro stato di salute mentale per cui questo come consiglio ai familiari che ovviamente sono le persone che più da vicino vivono queste situazioni notare che la puerpera ha un'alterazione del ciclo sonno-veglia al di là di quello indotto ovviamente dall'allattamento perché intanto c'è un'alterazione del ciclo sonno-veglia necessario però anche dopo l'allattamento una mancanza di sonno al contrario una sonnolenza eccessiva è un campanello d'allarme secondo me molto importante bene vuole ricordare perché sa detto da una donna poi fa un effetto diverso non bisogna avere paura di andare a fare una visita nel momento in cui si ha l'impressione di avere qualche problema assolutamente no ci tengo molto a combattere lo stigma sono gli psichiatri sono dei medici come tutti gli altri alla pari degli altri ci occupiamo di un settore ancora più interessante se vogliamo di tanti altri nel senso sicuramente la psichiatria è un campo assolutamente particolare in ambito medico però siamo disposti ad accogliere chiunque abbiamo diversi centri di salute mentale sul territorio per cui abbiamo le strutture pubbliche che possono assolutamente offrire consulenze a chiunque poi sarà lo specialista a stabilire se è necessario un percorso che tipo di percorso se non c'è bisogno di fare nulla per cui venite a trovarci non bisogna avere paura la ASL di Frosinone mette questo servizio a disposizione di chiunque Daniele Ruffino con altrettanta chiarezza vogliamo ricordare quello che abbiamo detto nella prima parte cioè l'assistente sociale non è un ficcanaso non andiamo a fare la spia quando segnaliamo qualche cosa che non ci sembra apposto a un assistente sociale vogliamo ricordare che è utile può essere opportuno che cosa è necessario segnalare è necessario segnalare assolutamente laddove ci si rende conto che la normalità è andata persa quindi laddove ci sono delle esagerazioni ma questo riguarda i minori ma potrebbe riguardare anche gli anziani perché sono la categoria che va protetta quanto i minori segnalare laddove ci sono dei presunti abusi delle presunte maltrattamenti e uno stato di abbandono ma anche laddove ci sono dei genitori che hanno bisogno e magari per una questione di dignità di orgoglio di mentalità non hanno il coraggio di varcare la soglia del nostro ufficio che a volte è visto un po' come quelli che intervengono in maniera irrimediabile Sindaco da oggi o meglio da ieri anche consigliere provinciale questa esperienza la porterà a chiedere un impegno maggiore anche dell'ente provincia nel campo dei servizi sociali si guardi direttore uno dei primi il mio primo intervento che si è tenuto proprio ieri nella giornata dell'insediamento a qualche minuto dopo il funerale del piccolo Gabriel è stato proprio questo insomma anzi i consiglieri si sono raccolti insomma intorno a questo tragico evento e lì ho rimarcato nel mio breve intervento quelle che sono le politiche sociali di tutto il territorio provinciale quelli che devono essere diciamo lo sviluppo delle politiche sociali affinché i sindaci perché poi direttore sul campo ci sono le amministrazioni comunali ci sono gli enti locali che vivono diciamo così direttamente le comunità e quindi un maggior diciamo senso perché poi dall'altro anche le misure che sono oggi previste nei servizi sociali sono misure un po' vecchiotte a mio avviso sono misure che a volte forse non sono così all'avanguardia rispetto a come l'evoluzione così come diceva bene la dottoressa della famiglia quindi una famiglia che non è più allargata come un tempo una famiglia diversa quindi avremo bisogno delle misure diverse che possano veramente ecco far fronte a delle situazioni che a volte non possiamo noi da lì direttamente dall'ufficio direttamente dalla casa comunale percepire quindi uno dei miei primi interventi in provincia si è appunto rimarcato su questa cosa e su quelle che sono le politiche economiche e occupazionali di questa provincia perché poi è tutto un collegamento quindi il disagio sociale il disagio economico la congettura economica l'occupazione quindi questo è un filone che parte quindi diciamo da una seria riflessione che noi che facciamo politica insomma che ci proponiamo nella gestione degli enti dobbiamo tenere conto ogni giorno anzi ogni ora grazie ai nostri ospiti per averci aiutato a capirne un po' di più grazie a voi a casa per averci seguito a Porta Aperte torna tra una settimana stessa ora stessa rete adesso TG in breve e poi Saverio Forte vista sul golfo si parla di Menturno e delle sue specificità arrivederci a presto a presto a presto Grazie a tutti.